Con queste cartoline in apertura Vi diamo il benvenuto a tempo d'estate Buon venerdì a tutti 10, 45 minuti primi e 37 secondi in questo istante Rigorosamente in diretta anche oggi Lo siamo dal lunedì al sabato su Padre Pio TV A quest'ora per accompagnarvi fino alle 11.30 Al momento della Santa Messa Non sono da sola come dall'altra parte delle telecamere In regia ci sono Giulio Russo e Leonardo Fania Collegati dalla chiesa di San Pio Anna Maria Salvemini, Maria Antonia Di Maggio e Luigi Martino Buongiorno ragazzi, benvenuti Buongiorno a te Paola, sono di qua Volete venire? No, non vogliono entrare Complimenti per la giacca Grazie, un rosso sgargiante Portiamo un po' di colore Anna Brava, brava, fai bene Allora anche qui sono esattamente le 10.47 In questo istante siamo pronti anche per prepararci alla celebrazione eucaristica delle 11.30 E voglio dirvi che a pochi passi da qui, da San Giovanni Rotondo, a Monte Sant'Angelo Si sta celebrando la giornata di santificazione dei sacerdoti Scusatemi, sento il ritorno Questa giornata, che cade nel terzo venerdì del mese di giugno Esattamente tre settimane dopo la Pentecoste È stata voluta fortemente da Monsignor Michele Castoro Quindi sono lì in questo momento tutti i sacerdoti della diocesi Gran parte dei sacerdoti insieme a Padre Franco Moscone Per una riflessione, una meditazione guidata da Don Francesco Armenti E la celebrazione delle 11.30 Quindi saremo in comunione con loro E ci saranno anche delle novità per la nostra diocesi Quindi ci sentiamo così, insomma In diretto contatto anche con loro Esatto Benissimo Anna, con te torneremo a collegarci appunto nel corso del nostro appuntamento So che ci sono anche degli ospiti Vediamo già che la Chiesa sta cominciando ad ospitare i primi pellegrini Coloro che appunto vengono soprattutto a San Giovanni Rotondo Per pregare dinanzi le spoglie mortali di San Pio e perché no anche per partecipare alla Santa Messa Qualora rinnoviamo l'invito, abbiate voglia di raccontarci la vostra storia La vostra devozione al Santo di Pietrelcina Siamo lì, ecco Trovateci, veniteci anche solo a salutarci se non avete voglia di raccontare la vostra storia e le vostre emozioni Infatti noi appena arriviamo qui per prepararci anche alla diretta Durante il percorso che facciamo, attraversiamo il Sagrato Cerchiamo anche pellegrini con la voglia di raccontarsi Però non tutti lo vogliono fare, lo raccontano a noi Ce ne sono tante di storie dietro anche la figura di Padre Pio Meravigliose, le teniamo per noi Poi magari un giorno le racconteremo anche senza i diretti interessati Bene, grazie Anna Maria, più tardi, buon lavoro Bene, noi partiamo come accade ogni giorno con il Santo che la Chiesa ricorda oggi Oggi i Santi sono due, Santi Marco e Marcelliano, martiri di Roma Forse fratelli di carne, ma certamente fratelli nel martirio Marco e Marcelliano vengono arrestati nel 304 dal prefetto Cromazio Che concede loro un mese per rinnegare la loro fede Rifiutati si vengono martirizzati e poi sepolti nel cimitero di Balbina Sulla via Ardeatina appunto a Roma E vogliamo ricordare quello che è accaduto qualche anno fa Esattamente il 18 giugno del 1836 Fu istituito in Piemonte il corpo dei bersaglieri I bersaglieri sono una specialità dell'arma di fanteria dell'esercito italiano Il corpo dei bersaglieri fu istituito in Piemonte Allora regno di Sardegna Sulla base di una proposta del generale Alessandro Lamarmora Il 18 giugno appunto del 1836 Il compito di questo corpo era quello di svolgere la funzione tipica Della fanteria leggera Esplorazione, primo contatto con il nemico E fiancheggiamento della fanteria di linea Vediamo delle foto e ringraziamo per questo l'ufficio stampa Appunto dell'esercito italiano per averci fornito queste foto Che appunto riguardano i bersaglieri di cui oggi si festeggia la loro nascita La loro istituzione E allora vogliamo proseguire in questa diretta Che appunto proseguirà fino alle 11.30 Momento in cui poi pregheremo insieme con la celebrazione eucaristica Perché queste dirette, questi momenti che stiamo trascorrendo insieme Lo faremo per tutta l'estate Sono anche un modo per andare a riprendere dall'archivio di Padre Pio TV Alcune storie, alcune testimonianze Anche un po' ecco il meglio di quello che abbiamo prodotto in questi anni Magari poi non sempre il meglio Ma delle cose interessanti che vale la pena riascoltare e rivedere Vogliamo, era il 2016, ospite nei nostri studi E' una puntata speciale di Tra le righe per presentare il suo libro La strada dei miracoli La giornalista nonché amica Safiria Leccese Che sul finale di questa intervista dedicata alla sua professione Al libro, al programma che aveva condotto fino a qualche tempo fa E ci racconta anche del suo legame con Padre Pio Però, cioè, con una figura che ha cominciato un percorso E vedo che non mi lascia Sai come sono arrivata la prima volta a San Giovanni Rotondo Per andare appresso a due mie amiche carissime Mie, medici Due dottoresse Molto credenti Che venivano a fare un congresso a Foggia Come mai trovavamo l'occasione per stare insieme Accompagna, ci accompagna, ci accompagna Vabbè dai, ma prendo due giorni Le nostre, quelle che noi chiamiamo corta riposo Riposo settimanale L'accompagno Ah vabbè ma mica possiamo stare qua Senza andare al convento di Padre Pio Ma era già un momento che interessava tanto anche a me Perché a mia volta anche io Avevo cominciato la mia strada Tu pensa che una volta mi si è allagata la casa Appena finito di montare il parquet Che sembra una cosa assurda E mi era stata regalata questa immagine Di Padre Pio così Che io mi dico Mamma mia Ma come faccio io a tenerti nella casa Che io non ti ho mai sopportato Poi mi hai fatto questo Mi hai fatto questo Mi hai fatto quell'altro Vabbè Mo ti tengo Mi si allaga la casa Io su un'isola Il mio primo pensiero Dico però Dico prima ad andarmene Cioè tu ti chiamano Ti dicono che la tua casa Ci sono i pompieri a casa Una persona normale che fa Torna Ho detto ma Avevo messo le immagini di Padre Pio Va bene Lasciamo andare Lasciamo andare Quando sono tornata L'immagine manco bagnata Il parquet Alzato un metro e mezzo E tutto il resto delle cose importanti Toccato niente Cioè per dirti ora Questa naturalmente È la più stupida delle cose E forse per questa Mi viene facile più raccontarlo Però è una figura Che c'è sempre stata E ti stavo dicendo Sono arrivata qua E le mie amiche dicono Ma scusa che facciamo Scusa Stiamo a Foggia Secondo te non andiamo A San Giovanni Rotondo Dici ma poi fai la giornalista Fai il telegiornale Tanti anni Ma non ci vuoi dare neanche una mano A fare una visita al convento Guardate che io Non conosco nessuno Non so neanche con chi chiamare Alla fine insomma Vado un po' Voi telefonate così E chi ci accoglie? Padre Francesco È stata una cosa Non meravigliosa Di più Perché prima arrivo Con queste mie amiche Poi nella cella di Padre Pio Succedono delle cose Spiritualmente particolari E Padre Francesco Ci dà l'opportunità Il giorno dopo Di farla rivisitare A queste altre persone Con cui stavamo noi Che erano sempre Questi medici Per il congresso Quindi praticamente Cioè attraverso Questo minimo impegno Di due telefonate E la loro disponibilità Queste persone Hanno vissuto due giorni Veramente immersi In una cosa Meravigliosa E poi è continuata Perché è appunto Una trasmissione in libro E se oggi sto qua E ci sono tornata Anche a marzo Perché È questa la testimonianza Dell'amica Safiria Leccese Anche scrittrice Il suo ultimo libro La ricchezza del bene Edizioni Terra Santa Racconta delle storie Di imprenditoria etica Davvero molto molto bello E allora a proposito di libri Un altro consiglio di lettura Un libro che è stato pubblicato Da poco Dalle edizioni Paoline È scritto da Sabrina Vecchi Ha un titolo particolare Perché particolare Anche il contenuto Si intitola La trattoria del cardinale Brevi storie Divertenti aneddoti Originali testimonianze Sul rapporto Tra cibo e spiritualità Tra nutrimento per il corpo E nutrimento per lo spirito Questo libricino Non ha alcun scopo teologico O educativo Nessun tipo di presunzione Nessun particolare Destinatario Introduce così La scrittrice L'autrice del libro Sabrina Vecchi Ho solo messo per iscritto Piccoli episodi Qualche piacevole chiacchierata Alcuni momenti In cui è stato bello Sedersi attorno a un tavolo Assaporando contemporaneamente Sia un buon piatto Sia la voglia di stare insieme Si tratta appunto di brevi storie Di convivialità e fede Semplice, buono E variegato il menù del testo Si passa Pensate dal buffo aneddoto Su Papa Francesco Che visitando a sorpresa Una residenza per anziani Mette in agitazione La cuoca della struttura Che è pronta per quel giorno A servire solo bastoncini di pesce Alla nota vicenda Dei tortellini con ripieno di pollo Causa di infinite e serie di polemiche Nei confronti dell'arcivescovo di Bologna Il cardinale Matteo Zuppi E poi dalla testimonianza Di Don Andrea Ciucci Più volte anche ospite Di Padre Pio TV Che divide i suoi impegni E le sue giornate Tra la Pontificia Accademia della Vita Ricette di cucina E trattati di teologia Un libro davvero leggero Molto simpatico Con 18 storie Da assaporare una dopo l'altra Magari anche non in ordine E allora Vogliamo A proposito di testimonianze Siamo partiti con Safiria Leccese Poi passando attraverso Don Andrea Ciucci Che è stato Più volte anche ospite Insieme alla collega Maria Antonea Di Maggio Hanno anche Realizzato Dei programmi Dei quali stiamo vedendo Anche dei piccoli stralci In questi giorni Un'altra testimonianza Sempre Di una devozione Legata a Padre Pio Lui si chiama Don Maurizio Patriciello È un volto Noto Non solo perché Spesso compare In televisione Ma anche perché È il prete Della Terra dei Fuochi Terra dei Fuochi È chiamato Quel territorio Che circonda La parrocchia A Caivano Appunto Di cui è parroco Don Maurizio Patriciello Che per anni Terre che per anni Hanno bruciato Cumuli di rifiuti tossici Con avvelenamento Davvero per tutta La popolazione Per le persone Che vivono Don Maurizio Per queste persone È diventato Davvero un padre Spirituale Un confidente Un amico Maria Antonea Di Maggio L'ha incontrato Nel 2016 2017 Non ricordo bene Siamo andati a prendere Dall'archivio di Padre Pio TV Anche il suo racconto Legato al Santo di Pietrelcina Ascoltiamolo Ero convinto Di aver terminato La mia corsa Un giorno Una persona di ritorno Da San Giovanni Rotondo Mi portò il regalo Un paio di minuscoli Sandali francescani Con la foto di Padre Pio Mi sembrò di udire La voce Del frate Cappuccino Che nella nostra Bella lingua Mi diceva Guaglio Alzati e cammina La strada è ancora lunga Ed era così Mi è pesato molto Scrivere questo articolo Per avvenire Io scrivo per avvenire Ormai sono già Dieci anni E questa esperienza Era rimasta mia Profondamente mia Nel mio intimo E mi pesava Metterla in pubblico Però sapevo Che un giorno L'altro Dovevo farlo Perché c'era In giro Tanta gente Che aveva bisogno Di questa esperienza Era il 2003 Quando durante la messa Io stavo leggendo Il Vangelo Ebbe un'esperienza Per me incomprensibile Cioè come se Come se si spegnesse L'interruttore centrale Come se tutto diventasse buio Il cuore cominciò a battere All'impazzata E non vedevo l'ora Che la messa terminasse E venne un Così un Un attacco di panico Profondissimo Ma proprio all'improvviso Mentre io leggevo il Vangelo Infatti non mi rendevo conto Di che cos'era Era l'inizio Di una fase depressiva E andò via La fame Il sonno La forza anche Di fare il mio dovere Di parroco Pensavo proprio Che per davvero Fosse la fine Della mia vita Di sacerdote Quando Arrivo proprio Questa esperienza Molto bella Ricordo ancora Chi fu Si chiamava Vittorio Questo giovane Che andò a Padre Pio E mi portò Questo paio Di minuscoli sandali Quelli là Che costano un euro E ce l'ho ancora E proprio Veramente avvertì Proprio la sua voce Che mi diceva Guarda che questo È un momento Che dovrà passare E così fu Dopo Natale Di quell'anno Pian piano Ritornò la fame Ritornò il sonno E questa è la testimonianza La storia molto bella Di Don Maurizio Patricello Dall'altra parte Nella chiesa di San Pio I nostri colleghi Sono già pronti Per intervenire Ma noi vogliamo Fermarci qualche istante Facciamo una brevissima Pausa e poi torneremo Insieme con una bella storia Una storia che arriva Dall'opera di Padre Pio Da casa sollievo della sofferenza State con noi Una bella storia Una storia che è il sapore Della speranza Ma non solo Torniamo a collegarci Con Anna Maria Che si trova Nella chiesa di San Pio A te Anna Sì Grazie Paola In effetti è una bella storia Di speranza Quella che stiamo per raccontarvi Non lo farò da sola Non lo farò da sola Ovviamente ci sono due angeli Che per questa bambina Di nome Cecil Di 18 mesi Sono stati davvero Importanti E poi avrà la piccolina Di 18 mesi La gioia di sentirselo raccontare Anche quando sarà più grande Sono con me Il dottor Leonardo Gorgoglione Primario di neurochirurgia E il dottor del Gaudio Alfredo Primario di anestesia E rianimazione 2 Dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza Bentrovati Partiamo subito Non so da chi Sinceramente Perché la storia Dal professor Gorgoglione La storia è molto bella Molto toccante E anche emozionante Questa bimba arriva a fine marzo In condizioni disperate Inoperabile A causa di una massa tumorale Presente nel cervello Che occupava un quarto Del cervello appunto Quali sono state Le vostre immediate reazioni? Al di là delle reazioni In condizioni umane Professionali C'è un coinvolgimento Che è un po' diverso Nel caso di una bambina Così piccola Perché una bambina Di pochi mesi Presuppone Un'organizzazione Molto molto particolare Molto delicata Le problematiche Che può dare Una piccola Sono diverse Da quelle che sono Le problematiche Degli adulti Non è il tumore In sé per sé Che ci aveva spaventato Ci aveva spaventato Più che altro Il tipo di soggetto Una bambina Così piccola Quindi Dove Chiaramente Una compressione Su tutte le strutture Importanti Ipofisi Ipotamo Potrebbe dare Degli sconvolgimenti Metabolici Notevoli Dai quali Spesso Non si esce Quindi C'è stato Un coinvolgimento Personale Ma anche Di tutta l'equip Poi Ripeto Queste patologie Si affrontano Non da soli Si affrontano In gruppo L'ospedale È un grosso ospedale E ci siamo fidati Di avere un grosso ospedale Alle nostre spalle Per poter affrontare Una situazione del genere Ecco Dicevo Due angeli Ma effettivamente Poi si diventa Una grande famiglia Si accuore Questa situazione Questo caso In particolare Il dottor Del Gaudio È anestesista Non è di San Giovanni Rotondo È qui Di Napoli Probabilmente Prima di operare Qui In questo ospedale È stato anche Pellegrino Diciamo che Io sono Ho una storia lunga A San Giovanni Rotondo Sto qui Da 31 anni Per tutta una serie Di motivazioni Personali Ho cominciato La mia storia Quando è partita La neurochirurgia Qui a San Giovanni Rotondo Il 1991 E Quindi abbiamo Lavorato sempre Sempre insieme Con Leonardo Quindi c'è un Un affiatamento Importante Legato al fatto Che abbiamo Ne abbiamo vissuto Di moltissime E abbiamo fatto Tantissime cose Questa cosa In particolare Aveva Come diceva Giustamente lui Tutto un Un riscontro Importante Da un punto di vista Umanitario C'era Trattare una bambina piccola E c'era poi Da un punto di vista Della terapia intensiva Della anestesia Della terapia intensiva Soprattutto Della terapia intensiva Una serie di problematiche Legate al posizionamento Del tumore Non tanto a quanto Era grande Perché a toglierlo Ci aveva pensato lui Ma ai danni Che quel tumore In quella zona Aveva determinato Nei 19 mesi di vita Della bambina Quindi C'era questo problema E siccome Convolgeva in maniera importante Alcuni organi di senso Per esempio La vista Non siamo ancora sicuri Che la bambina Veda Perfettamente Questo rimane Un problema Perché il tumore Comprimeva il chiasmo ottico E quindi Comprometteva la vista Già dall'inizio I problemi divisivi Sono stati i primi Che ha avuti la bambina E che hanno fatto capire Che c'era qualcosa Che non andava Quindi Ci sono i problemi divisivi I problemi che riguardano Il metabolismo in generale Gli elettroliti L'acqua Insomma Un problema enorme Da un punto di vista Diciamo Della terapia intensiva E di rianimazione Ma oltre questo C'era anche un problema Relazionale importante Perché la bambina Non capiva Quello che dicevamo E quindi Essendo piccola E giorgiana Quindi c'erano due Problematiche La bambina è splendida È troppo bellina Voglio dire Voglio dire È proprio un tesoro I genitori Sono due Due ragazzi Praticamente Infatti Questa è la particolarità Anche di questa storia Ha due genitori Giovanissimi 22-23 anni Le difficoltà Sono nella lingua Ovviamente Nell'età della piccolina Qual è l'umore Della bimba Dopo l'operazione? La bimba Si arrabbia Quando ci siamo vicino Questo sicuramente E piange Appena ci accostiamo Però questo Diciamo così Ci rasserena Non ha deficit Praticamente Muove tutto Quel cosino Che vedete Quel celotto Che vedete È una vena centrale Tunnellizzata Che abbiamo messo Proprio perché abbiamo Bisogno di continui Riscontri ematici Dei parametri vitali Della bambina E quindi Abbiamo optato Per questa scelta E quella che evita Al massimo Le infezioni Per il resto La bambina Comincia anche a mangiare Qualcosina Come avete visto Ci sono un po' di cose E per il resto Viene nutrita Per via interale Comincia a parlare Comincia a dire le cose A muoversi La teniamo anche seduta Insomma Va ben Segno che sta andando bene Anche il fatto Che si arrabbi Buon segno Allora Lei si arrabbi E noi ci commuoviamo Purtroppo c'è anche questo Perché la bambina così piccola Ti coinvolge Dal punto di vista emotivo Indiscutibilmente Ecco C'è un'equip Che supporta anche A livello emotivo Non soltanto la bimba In questo caso Ma anche i genitori Ma diciamo che I genitori Sono gente giovane Sì però Molto carica Molto piena di vita Diciamo sicuramente Sono di grande supporto Poi In una rianimazione In genere Non si fa entrare Il dottor Del Gaudio Per fortuna Si è aperto a questa cosa Quindi la madre È ormai tra di noi Quindi la bimba Se la prende in braccio La coccola Insomma Fa quello che deve fare una mamma Ecco Infatti Lo diceva prima Prima della diretta Il dottor Del Gaudio Ha detto che in questo caso È stata fatta una grande eccezione Avendo proprio Lì sul posto I genitori Soprattutto la mamma È vero Perché non si ha molta voglia Di restare in rianimazione Ad osservare i propri cari C'è tutta una storia Dietro questa condizione Una storia Che ci portiamo appresso Sulle rianimazioni Cosiddette aperte Una rianimazione In un ospedale Che si chiama Casa Soll'Ivole sofferenze Quindi è una casa Non è un ospedale Non è neanche un'azienda È una casa In un ospedale Così c'è deve essere Per quello che dice Il fondatore Sto qua dentro Non posso non dirlo Bisogna portare amore Al letto del malato E amore al letto del malato Significa Far stare vicino i parenti Che vogliono stare Vicino ai pazienti Quanto più tempo possibile Lo sforzo è questo Chiaramente la pandemia Ha determinato Degli ostacoli enormi A questo tipo di conduzione Ma non vediamo l'ora Di riaprire la rianimazione E fare entrare di nuovo I parenti In rianimazione Per una bambina così piccola E che non aveva Possibilità di parlare Con nessuno È chiaro che abbiamo dovuto Derogare anche Rispetto a questa condizione Sono stato contentissimo Di farlo Se proprio lo devo dire Lo dico Bello chiaro chiaro E tondotto Sono stato contentissimo Di farlo Tampone E quant'altro Con tutte le sicurezze Di questo mondo Però la mamma Può stare vicino Alla bambina Quanto vuole lei Per quello che mi riguarda È bellissima Questa apertura Allora Due medici Sicuramente Hanno dedicato Stanno dedicando La loro vita Alla scienza La preghiera A che posto è Nella vita di un medico Per quanto mi riguarda Io Sono legato a questo ospedale Da sempre Da quando questo ospedale è nato Perché io sono nato Con l'ospedale Per cui I miei genitori Mi hanno trasferito Quest'amore Verso padre Pio Verso questo ospedale Che è stata E se non sto qui A raccontare La mia storia personale Ma insomma Io sono stato salvato Dall'apertura di questo ospedale Per cui Sono profondamente legato E lavoro per l'ospedale Questo è quello Che mi interessa Per quanto riguarda L'emozione Che ti porta Un intervento del genere Siamo umani Cioè voglio dire Al di là del fatto Che il chirurgo Si C'è questa idea Che il chirurgo Si ha freddo Eccetera Ma di fronte Alle cose del mondo E della vita E della malattia Soprattutto in una bambina Non può essere Se non tenero Quindi è chiaro Che ci coinvolgono Dal punto di vista emotivo Queste cose E quindi Anche questa In questa storia Della piccola Cecil C'è anche la storia Dei medici Che poi Sono accanto a lei Dottor Del Gaudio Sì Io ho difficoltà Con i nomi Ci si affida Da medico In situazioni Così difficili Così critiche A qualcuno Che è al di sopra Di tutto Allora È complicato Perché si apre Un Un settore Della vita Privata Che insomma Uno vuole mantenere Mantenere suo Certamente Per tutta una serie Di cose Che sono successe Non tanto Cioè io Mi rivolgo Cioè direttamente A Pasio Pio Lo dico in maniera Chiara Per me Il punto di vista È quello Assoluto È presente Non si rimane 31 anni qua Vivendo a Napoli Facendo Un milione Duecentomila chilometri Più o meno Facendo avanti indietro Avanti indietro Avanti indietro Così Per un motivo Così Si rimane Perché Si è capito Un messaggio Perché Quell'ospedale Lo tengo dentro La cosa bella Di questa storia È che a raccontarla Siano dei medici Sesilla Adesso Qual è il suo Quadro clinico Quanto tempo Ancora deve rimanere In ospedale Cosa si prospetta Per il suo futuro Lei sta bene Alla BIMA Tutto sommato Sta bene Ha affrontato Un grossissimo Intervento Un grossissimo Postoperatorio Siamo soddisfattissimi Di come sta andando Come è andata Adesso la BIMA Adesso la BIMA Deve essere trasferita In un centro Di riabilitazione Da bambini Dove in genere Vengono affidati Questi bambini Che hanno queste patologie Ma per la ripresa Per l'alimentazione Per la mobilità Insomma Tutto sommato La bambina Potrebbe avere Una vita normale Ma sicuramente Poi i bambini Così piccoli Recuperano pure Dei danni Che lei in realtà Non ha Se non Fatta eccezione Un dubbio Sulla vista Però quello Da valutare bene Una bambina Così piccola Anche difficile Da valutare Però diciamo Le cose Io sono ottimista Devo dire Io sono stato più ottimista Di Alfredo del Gaudio Lui all'inizio Era un po' più pessimista Di me Ecco Però adesso Lo siamo entrambi Siamo entrambi ottimisti Verso il futuro Di questa bimba Si vede Si sente Il mio pessimismo È legato al fatto Che lui ha fatto Intervento Dieci ore Io lo tengo Da due mesi Quindi diciamo Il mio pessimismo È legato a questo Fondamentalmente Però stiamo vedendo Delle immagini bellissime Che ci supportano E ci ha donato L'ufficio stampa Con la persona Di Nicola Fiorentino Insomma Che ci fa piacere Vedere Perché la bambina Ci sembra vispa Come si dice Quando dico Lui ha lavorato Dieci ore E io ho lavorato Due mesi Non voglio sottovalutare Il lavoro suo Perché se non c'era Il lavoro suo Non c'è il lavoro mio E chiaramente Quindi questo Va considerato E va detto È importante Però che la bambina Sia in un centro Appunto Di riabilitazione Dedicato Per questo Ci stiamo Interfacciando Il bambino Gesù Spero Spero che il discorso Possa rimanere in ambito Diciamo Di ospedale religioso In questo senso E quindi mi sembra Che il bambino Gesù sia la migliore Soluzione Stiamo aspettando Ancora qualche riscontro Finale Può essere Che nella prossima Settimana Per lo meno Queste sono Le indicazioni Che abbiamo avuto Al momento Potremmo Trasferirla A Roma Io spero Spero proprio Che si possa fare Al più presto Perché La rianunzione È un posto Dove I pazienti Vengono monitorizzati Completamente Però è anche Un posto Che disadatta Un pochettino Per tanti motivi E quindi Alla fine Meno ci sta E meglio Facevamo prima Il riferimento Ai bambini Alla difficoltà Di trattare i bambini I bambini Sono difficili da trattare Perché sono piccoli Però sono facili Da trattare Perché non hanno comorbidità Cioè i bambini Sanno bene Al di là Della patologia Se si li stava bene Al di là Di una patologia Incredibilmente grave Però stava bene Per quanto riguarda Cuore Respiro Eccetera Una cosa è Lavorare su una bambina Di tre anni O di due anni Di tre anni Di cinque anni Che quindi è integra Una cosa è Lavorare in rianimazione Su una persona Di settant'anni Che si porta appresso Tutta una serie Di comorbidità Che lo rendono fragile Quindi Il discorso dei bambini Da un certo punto di vista È più difficile Da un altro punto di vista È paradossalmente È più facile E anche questa potrebbe essere Una bella notizia Allora noi Continueremo Noi dal nostro Quanto insomma Quello che possiamo fare È continuare a pregare Per lei Ma anche per tanti bambini Che sicuramente Che sicuramente voi Avete modo di incontrare Di curare E anche di guarire Questo è l'obiettivo È l'obiettivo Certo sì Poi non sempre Va tutto bene Bisogna mantenere i piedi Per terra Fondamentalmente Ad essere umili Nel trattamento In questo tipo di discussione Anche Anche L'interazione mediatica Che abbiamo avuto Rispetto a questo caso Mi spaventa Da un certo punto di vista Cerco di essere Il più Obiettivo E serio Possibile Nel dare Delle tempistiche Rispetto alla problematica Bisogna Tenere i piedi per terra E pensare Che l'errore La difficoltà Sta sempre dietro all'angolo Nel mestiere che facciamo Questo è poco Ma è sicuro Se non si ha presente Questa cosa Si sbaglia Centocento Se pensi Che è andato tutto bene Si sbaglia Noi abbiamo Diciamo Un mediatore Importante Per caso Soglievo Come media Insomma Ci siamo portati avanti In questo senso Allora Sarete contenti Di essere chiamati Nonni Da Sesili Mi piacerebbe moltissimo Come no Io sono già abituato A essere chiamato nonno Quindi Volevo dire Sto avanti Da questo punto di vista Ho già assorbito Cioè La mia vanità È stata già mortificata In questo senso E quindi Ho già chiamato nonno E quindi Ho superato questo aspetto Mi fa piacere Pensavo di aver fatto una gaffa Dovevo fermarmi Forse a zii A zii Allora Grazie Dottor Gorgoglione Grazie a lei Dottor Del Gaudio Noi abbiamo raccontato Questa bellissima storia Che sia una storia di speranza Anche per tante famiglie Che stanno vivendo La stessa situazione O situazioni simili A casa O in altri ospedali A te Paola Bene È una storia davvero Molto ricca di significato Quella che arriva Dall'ospedale di Padre Pio Da casa Da casa sollievo Della sofferenza E allora Prima di fermarci Qualche istante Per poi tornare a collegarci Con la chiesa di San Pio Per partecipare Alla Santa Messa A proposito Di notizie belle Positive Ce n'è una Che è stata pubblicata Ieri Sul Corriere di Bergamo E riguarda Un alimentari Che si trova In piazza Monsignor Grassi A Verdello L'alimentari Delle sorelle Nozza Che a fine giornata Regala Il pane In venduto Lo imbusta Lo graffetta Lo lascia fuori Dalla vetrina Alle 19.30 Con un cartello Con gli ingredienti E una raccomandazione Non aprite le confezioni Sono per la cittadinanza E per chi ne ha bisogno E per chi Tornando dal lavoro Passa e vuole Prendersi una ciabattina Quindi un modo Ecco per fare Del bene Soprattutto Non sprecare Il cibo Questa è una Bellissima notizia Appunto Che arriva dal Bergamasco Da Verdello Per l'esattezza Intanto vi ricordo Anche Che avete la possibilità Di inviare Le foto di cordo Del vostro Pellegrinaggio A San Giovanni Rotondo Inviandole Alla e-mail Info Chiocciola Teleradio Padre Pio Punto it A questo proposito Approfitto anche per salutare Qualche telespettatore Che ha inviato I suoi messaggi O ha chiamato In redazione C'è Grazia Pronta Grazia Pia Pronta A rispondere alle vostre Telefonate Salutiamo Maria Cristina Dico solo i nomi Salutiamo Marcella Rossella Peppa Grassiella Rossana E Gregorio Grazie a tutti Per i saluti E per il supporto Se volete inviarci Le vostre foto di gruppo Info Chiocciola Teleradio Padre Pio Punto it Oggi ne abbiamo Ripescate Il caso di dire Una Dall'archivio Di voce Di Padre Pio Un gruppo Che arrivò Nel 1985 A San Giovanni Rotondo Da Alcamo Quindi dalla Sicilia Guardate Una foto Color Quasi in bianco e nero Color seppia Uno scatto Ricordo Di un pellegrinaggio Sicuramente Rimasto nei cuori Dei tanti Che lo hanno Chi vi ha partecipato Chi viene a San Giovanni Rotondo Poi riporta a casa Davvero tanta Tanta gioia E tanta serenità Quindi Inviateci le vostre foto Ricordo Del pellegrinaggio A San Giovanni Rotondo Sono quasi le 11.20 Quindi è arrivato il momento Di fermarci Restituire la linea Alla regia centrale Pausa Non dico breve Insomma una pausa Un po' più lunga Ma restate con noi Perché poi torneremo A ricollegarci Con la Chiesa di San Pio Per la Santa Messa Delle 11.30 Se vi siete scollegati Collegati Non scollegati Non fatelo Non scollegatevi Da Padre Pio TV Se vi siete collegati Solo questo istante Siamo in diretta Dalle 10.45 Lo siamo tutti i giorni Da lunedì al sabato Questo è tempo d'estate Vi faremo compagnia Per tutto il periodo estivo Nonostante le temperature Anche molto alte Che pare si stiano avvicinando Nei prossimi giorni Soprattutto al centro sud Una parte della redazione Qui nei nostri studi L'altra parte si trova Nella chiesa di San Pio Quindi fateci compagnia Anche voi Soprattutto fateci sentire Il vostro affetto La vostra presenza E vicinanza 11 e 28 Allora Vi ricordo Lo faccio Prima di tornare A collegarmi Con Anna Maria L'indirizzo Di posta elettronica Al quale potete inviare Le vostre foto Ricordo Di un pellegrinaggio A San Giovanni Rotondo Saremo poi felici Di poterle condividere Con i nostri telespettatori Info Chiocciola Teleradiopadrepio.it Oppure potete anche Utilizzare questa e-mail Per scriverci Qualcosa Che riguarda La vostra devozione Al santo di Pietrelcina O semplicemente Dei saluti Al santo di Pietrelcina